Amici di Border Knights, oggi parliamo di questo fenomeno che ha incuriosito molti di voi dei giorni scorsi e che anche Aurum sul suo canale Telegram ha sottolineato, tra poco sentiremo anche che cosa aveva detto, è stato spiegato soprattutto così, cioè con il cielo giallo, la pioggia e la sabbia del Sahara, dice Roma Today, l'apocalisse a Roma e i rischi per la salute, polveri sottili in strada e sulle macchine, entrano anche nei polmoni aggravando asma, bronchiti e altre complicanze, la tempesta di sabbia del Sahara e i suoi effetti sull'ambiente, nei giorni scorsi questo non inusuale fenomeno investito in Europa colorando di giallo i cieli e di rosa la neve. Ne parliamo quest'oggi con Maria Aibel del sito Geoingegneria che chiaramente conosciamo tutti, benvenuta Maria. Buongiorno, buongiorno a tutti. E visto che sei qui permetto sempre ovviamente di ricordare il grande Giulietto Chiesa che ci manca tantissimo e che anche su questo insomma era davvero straordinario nel raccontarci quello che accade. Maria, ecco, parto subito nel chiederti è successo qualcosa di anomalo in questi giorni, cioè noi abbiamo tutti percepito questa questa cappa nel cielo piuttosto strana e se fosse sabbia perché non l'abbiamo trovata, depositata come è successo altre volte? Ma per quelle testimonianze che ci sono in rete, sui vari giornali, in tutta l'Europa le sabbie sono venute anche giù in alcune parti, no? Sulle neve, le neve rosa, su alcune... non dappertutto perché evidentemente questa cappa non era della stessa densità da tutte le parti, comunque io una cosa del genere non l'ho mai vista e da chi ha un focus forte sui cieli è ovvio che mi sono fatta delle domande la cosa che mi ha stupito è che l'attenzione dei giornali era soprattutto sul pericolo della salute sull'apocalisse, sul distopico, cioè di generare di nuovo tutte le ansie immaginabili, probabili, possibili per inserirsi in quel disegno in cui stiamo ormai da anni, anche promettendo che questa tempesta potrebbe portare virus, batteri, funghi e così via, come se non ci fossero perché il nostro ambiente è sempre straccarico di tutti questi ingredienti per cui non ci vuole la tempesta del Zara per farci arrivare questi compagni. La cosa che mi ha un po' sorpresa, sono andata a cercare l'origine, non si parlava in genere cioè tutti i giornali parlavano dei rischi, del pericolo, ma non... cosa è successo nel Zara? Come mai questa ondata, questa cappa così enorme e persistente? Perché generalmente quando arrivano queste tempeste del Zara non durano così tanto e non sono così estese e io essendo abituata ormai a indagare su tutti gli eventi estremi qualche domanda mi faccio perché le tempeste, le tempeste sono comunque oggetto alle manipolazioni e sulle tempeste di sabbia sinceramente non è che abbia indagato e non ho neanche trovato ora delle informazioni, brevetti o così via, ho trovato giusto e l'ho postato oggi sul sito che gli americani hanno sviluppato un laser molto potente contro il nemico numero uno delle polvere in aria e questo problema delle sabbie, delle tempeste di sabbia che potrebbe anche essere usato come arma per esempio in Iraq era molto favorevole, ai tempi della guerra era molto favorevole questa tempesta di sabbia per le operazioni in campo. Comunque non ho trovato nulla di indicativo e nemmeno immagini satellitari di quello che in questo momento è successo nel Zara quello che ho scoperto in queste mie domande che sono sempre di ampio raggio è che nel Zara succedono molte cose, cioè c'è una geongeneria in corso di tutto altro tipo cioè stanno creando grossi impianti solari e eolici che trasformano comunque l'ambiente perché poi la parola geongeneria in origine è più indirizzata verso il terraforming cioè creare le grandi dighe, i grandi tunnel, modificare pesantemente l'ambiente e quello sta succedendo nel Zara e non solo questo, anche ci sono petrolio, c'è il gas per cui stanno impiantando pipeline, cioè succede di tutto lì per cui cosa è successo in questi giorni? Io sinceramente non lo so mi sono fatto tante domande e sto lì e ero molto preoccupata come tutti in questi giorni perché oltre alle guerre che abbiamo che hanno trasformato questa Pasqua in qualcosa di molto pesante, soprattutto anche quella del Gaza questa K ha aggiunto un aspetto non proprio ora serennante insomma mi fermo ora qui se mi vuoi fare domande Sì, allora ascoltiamo adesso come Aurum, che interviene come sapete sul nostro canale ieri sul suo canale Telegram, aveva raccontato poi invitando a mandarci anche qualche testimonianza ne leggeremo poi alcune rapidamente, sentiamo come aveva raccontato quello che stava vedendo Nel cielo da, almeno in centro Italia, da circa 3-4 giorni c'è una vera e propria cappa che io non ho tra l'altro mai visto con queste modalità rossiccia tra il grigio e il rosso molto diversa da quella che normalmente si produce a seguito delle esce chimiche che normalmente è una sorta di nube lattiginosa che si espande nel cielo che diventa una sorta di, appunto di qualcosa di lattiginoso, ecco, nel cielo in questo caso è completamente diverso, è la prima volta che io, almeno personalmente, lo osservo il cielo è, sembra ci sia una sorta di fortissimo inquinamento ecco, l'idea è tipo quella di città come Shanghai o qualcosa del genere dove c'è proprio una cappa, una foschia intensa di smog ma io sto parlando del centro Italia dove non c'è nulla di tutto ciò, non c'è Shanghai e ecco, c'è un qualcosa di ferroso, direi, nell'aria c'è un colorito sulfuro, ferroso, o qualcosa del genere sembrano particelle estremamente sottili per la ragione che non si depositano da quello che vedo nelle superfici semplicemente rimangono in sospensione aerea Allora, Maria, ti chiedo potrebbe essere un fenomeno legato all'inquinamento anche se, come diceva Agum, questo potrebbe avvenire in città dove c'è appunto molto traffico ma in altre zone d'Italia è già una trasferazione più difficile e questo materiale fosse davvero di metalli e come si vede anche in alcuni video che sembrano magnetici potrebbe avere appunto un'altra spiegazione quella che davi tu o potrebbe essere assolutamente plausibile cioè di qualcosa anche di militare? Io volevo focalizzare sempre subito tutto sulle scie non trovo molto sensato perché l'intrusione delle sabbe del Sahara c'è stato e c'è stato anche in passato infatti io ho postato due articoli degli ultimi anni quando erano eventi simili, anche quelli pesanti e quando tra l'altro in Croazia hanno fatto le analisi spero che le facciano anche in molte parti questa volta per esempio l'associazione di Monica Laneri visto che ha creato questa situazione che potrebbero mettere un po' di soldi insieme e fare le analisi in Croazia hanno trovato dati pesanti metalli pesanti fatto sta che le cose che arrivano dal Sahara e questo lo testimonia anche una situazione mi sembra del 2022 o 2021 e ora confondo l'uno e l'altro quando in Francia hanno scoperto una radioattività che veniva dalle sabbie del Sahara che è dovuto al fatto che lì sono stati fatti test atomici e non è che dopo 50-60 anni questa situazione sia risolta per cui le sabbie sono radioattive quando si alzano le polvere in aria arrivano, arrivano dove arrivano arriva la risposta del passato e invece queste testimonianze dalla Croazia e lì c'è comunque da dire che abbiamo ormai da vent'anni i cieli visibilmente inseminati inquinati e quando si mescolano le due cose è ovvio che poi si amalgamano cioè vuol dire che quello che viene misurato nelle piogge e non si sa da dove viene se sono stati anche inseminati le correnti è immaginabile e comunque le cappe le cappe già c'erano abbiamo visto gli ultimi tempi i cieli talmente invasi da rilasci di aerei da quello che si vedeva ad occhio nudo che una volta che le piogge portano giù tutti questi ingredienti che galleggiano in alto c'è di tutto e purtroppo poi per come hanno fatto vedere questa analisi in Croazia nulla di buono tra l'altro io facevo parte prima di un'associazione in Germania Saubre Himmel e lì abbiamo fatto 80 analisi di piogge poi dicono sempre che le cose misurate in basso non valgono nulla valgono qualcosa sono comunque un indizio perché abbiamo fatto poi in tutta la Germania in 80 punti questa cosa devo mettere ancora sul sito analisi con gli stessi criteri e veniva fuori un fingerprint e sono sempre questi metalli che tra l'altro sono stati anche rilevate nei carburanti nei carburanti degli aerei e lì vorrei aggiungere che per me e penso che tu lo sappia io il termine sci-chimiche l'ho abbandonato da un pezzo perché per me è stata una sofferenza incredibile quando mi sono resa conto che portava un depistaggio perché la gente cominciava a pensare la gente che non si preoccupava dei cieli ma anche quelle che si preoccupavano cominciavano a pensare che ci siano scia buone e scia non buone e invece abbiamo dal 97 e anche da prima questa proposta di inserire il traffico civile è anche in operazione di geoingegneria dei cieli per cui di distinguerci è visibile, non visibile e non ha senso non ha senso di dichiarare una parte inocua, buona naturale e un'altra invece chimica sono tutte sci-chimiche sono tutti contaminanti che inquinano l'atmosfera e su questo vorrei io ho visto giusto due o tre giorni fa un'intervista veramente per me importante di Jim Lee che secondo me ha fatto un lavoro meraviglioso il suo sito è climateviewer.com e lui ha fatto un'intervista con Big Tree che ha fatto il documentario Vext anni fa e lui spiega anche la sua sefferenza non mi sono sentita tanto sola in questo momento con questo discorso delle cosiddette sci-chimiche perché oggi proclamano ufficialmente di voler utilizzare le contrail per raffreddare e per riscaldare o evitare l'iscaldamento e su queste cose voglio fare un riassunto uno di questi giorni tutto questo tema delle contrails uguali a sci-chimiche perché sono tutte sci-chimiche quelle visibili e non visibili è veramente un tema da affrontare di nuovo per me io sto proprio in partenza in partenza di nuovo grazie a Jim Lee che ha fatto una documentazione favolosa favolosa e lui era anche partito dal dal lavoro di questi geoengineering corifee come David Keith e Caldera che da anni proclamano sostenuto da Bill Gates di voler salvare il pianeta con queste operazioni era in discussioni con loro poi è passato alla modificazione meteorologica io praticamente ho fatto lo stesso percorso per cui sono passata da documenti scientifici alla modificazione meteorologica che in questi ultimi anni è stata considerata da esponenti delle sci-chimiche diciamo una foglia di fico ma non lo è perché quando controlli con il tempo manipolato il cibo le risorse l'acqua insomma non è che sia tanto foglia di fico e secondo me non è un caso quando si è buttato nella mischia il generale Fabio Minni con Owning the Weather sapeva molto bene dove era il punto cruciale cioè possedere dall'alto tutto il controllo di ogni cosa e questo è molto collegato a Owning the Weather a possedere il tempo e tutte le operazioni che che sono connesse a questa tematica infatti bisognerebbe questa hai detto una cosa veramente giusta perché anche il linguaggio può aiutarci nel magari cominciare a far capire determinate cose a chi magari le ha ridicolizzate oppure non le vede proprio a capire noi meglio a capire noi meglio Fabio io ho visto quando una scienziata dell'atmosfera mi ha detto guarda cerca di usare la terminologia che usano i militari e scienziati e loro dicono per esempio aviation creation of clouds o artificial clouds o usano tutta una terminologia trovi un mare di documenti con c'è chimica e non trovi niente trovi quell'unico documento che citano sempre ma non trovi nulla se vuoi veramente capire cosa sta succedendo devi usare la terminologia corretta se no non trovi le risposte non trovi quello che stanno facendo in più in più non puoi comunicare con chi sta dentro ma la pensa diversamente e con quelli che ancora non sanno nulla perché ormai hanno le teste inquinate da un termine che per anni ha avuto un certo sapore per cui bloccano subito non ha più senso ma era una trappola in partenza questo l'ho capito ai tempi di Giulietto 12-13 anni fa e abbiamo deciso sia al Parlamento Europeo che a Firenze quando abbiamo fatto delle conferenze di non adoperare questo termine perché è sbagliato tutte le scie degli aerei sono chimiche tutte tutte portano avanti inquinanti quando poi ci pensi che nel 2003 quando tutto è iniziato qui da noi in Canada e in USA prima hanno iniziato ad aprire gli aeroporti militari hanno cominciato a promuovere pesantemente il low cost a prezzi stracciati per cui che differenza è vuol dire che tutto quello che succede lassù è da indagare se lo vedi o non lo vedi perché mi ha detto che quando tu non lo vedi io ho visto tante volte gli aeroporti perché sto a 500 metri ho sentito gli aeroporti passare sopra a casa mia e cadevano filamenti e non c'erano le scie e allora non erano innocue perché comunque cominciavano bisogna parlare in generale anche per visto che si parla tanto di ambiente di clima eccetera parlare proprio di inquinamento tocur dei cieli e cercare appunto di far svegliare anche su questo giusto per chiudere su questo scingale l'abbiamo portato al senato insieme a Giulietto perché bisogna chiedere che cosa succede lassù che cosa succede c'è una contaminazione chimica biologica elettromagnetica di tutti i tipi che viene negata cioè ora anche dicono va bene può arrivare tutta questa roba dal Sara e che ci fornisce ora i dati di quello che in questi giorni ha minacciato la salute di tutti quanti soprattutto i bambini e gli anziani nessuno ci fornisce i dati è quello il punto non dire a loro ci sono le chimiche come hanno fatto con tutte le richieste al Parlamento bisognava chiedere che cosa c'è che cosa c'è perché che ci sia qualcosa è ovvio poi basta vedere le statistiche anche dell'aumento del traffico aereo favorito dai aeroporti militari controllato il carburante dalla Nato insomma c'è una situazione ben chiara e il tempo si manifesta in troposfera e quello che succede in stratosfera anche ha la sua importanza visto che vogliono manipolarla nulla da tutte le conferenze il tema è fuori da tutte le domande richieste è fuori per cui questa fissa sulle cicchimiche che no io non ne posso più veramente io non ne posso più lo so che sono una lettura da anni su questa tematica io apprezzo apprezzo molto questa tua sì lo so che tu sei sensibile ma come sono molto ovviamente come te alla serietà anche nel comunicare situazioni delicate o come dicono loro controverse perché se sbagli la comunicazione è chiaro che poi fai il gioco involontariamente ma non non vieni a sapere la verità perché le parole sono importanti per conoscere veramente per capire non sono casuali se che insomma allora vediamo un attimo qualche testimonianza che ci è arrivata ad esempio Angelo dice qui siamo in Sardegna a 600 metri ci parla insomma di giorni con una cappa di foschia strana che non fa passare i raggi solari è una zona anche ventilata ma questa foschia persiste poi dalla provincia di Bari anche qui si raccontavano che c'erano stati dei temporali forte vento e polvere rossiccia difficile da rimuovere dall'automobile durante il lavaggio mia moglie lamentava la stessa cosa nel lavare il balcone pizzicone in gola in questi giorni secrezioni di muco di colore arancione grazie che ci hai mandato questa testimonianza qui siamo a Napoli invece ci dice di uno strano cielo strana atmosfera sensazione come se fosse tutto molto artificiale ecco questa e quest'altra immagine e poi ancora da Milano pioggia sporca grigiasca su Milano e Torino dalla provincia di L'Aquila ci viene detto che c'è questo fenomeno con temperatura insolitamente elevata anche lì stessa cosa in provincia di Rieti il cielo sembra si stia pulendo mentre verso nord ovest è nervioso poi dice non mi sento affatto bene dolori muscolari difficoltà a fare respirazioni profonde ed è una persona anche che sta in salute insomma sono queste alcune segnalazioni c'era un'altra anche di un vaso eccolo qua che chiudiamo su questa ci dice piogge che non sono terminate ha piovuto qualcosa di bianco anche qui hanno detto sabbia del saga che rimaneva appiccicato alle varie superfici dopo un forte temporale questa notte la temperatura si è alzata a 16 gradi una percezione di forte caldo e anche di umidità ecco questi sono alcuni racconti che ci sono arrivate ne torneremo sicuramente a parlare io ricordo il sito nogeoingegneria.com di Maria che ringrazio moltissimo di essere stata con noi e a presto Maria ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti